All'interno scatta al comando Baincos che si ritrae immediatamente lasciando spazio a Gangei che come una scoppiettata va in testa. A secondo posto emerge Ciao Ciao, Baincos che è rimasta terza in corda, poi l'avanzata da parte di Viosa, anche Sankir sui primi, Valdan Truis, Lupo Grigio, Voldemort, Arienti, Art Basel, City Way, ancora Beso, comunque Gangei sempre in vantaggio. Ciao Ciao con le maniche del cap giallo che è emerso in seconda posizione, Baincos in bianco rosso nero che risale per via interna su Eroine, in giubba arancio a largo, ancora più all'esterno e viaggia invece Sankir, in giubba giallo verde, poi Voldemort nel cuore del gruppo, in giubba bianca con la croce blu, a ridosso sempre per via esterna e Viosa che è ancora più all'argo di Anser, City Way, Beso e Arienti più dietro alla ricerca degli spazi. Ciao Ciao che rileva il comando nel frattempo Gangei quando si va in vista del pretto dei 400, Valdan Truis che in breve attacco Ciao Ciao e passa a sua volta, Voldemort e Sankir che si avvicinano insieme a Lupo Grigio per via interna e di fuori Arienti che prova a sua volta a intervenire. Valdan Truis che ha giocato in contropiede all'ultimo farlo su Valdemort, su Sankir, su Lupo Grigio e Arienti nell'ultimo tratto è ancora in vantaggio, Valdan Truis su Valdemort, Valdan Truis su Valdemort, poi Sankir, Lupo Grigio e Arienti a completare il quinte. Successo conclusivo per Christian De Muro che porta a casa Valdan Truis che colpisce per i signori Romani ai colori il signor Simondi al training. Per le scommesse, primo numero 3, secondo numero 4, al terzo il numero 6, al quarto il numero 2 che viene apparegliato a fil di palo dal numero 8 ma verosimilmente termina nell'ordine.